Ciao a tutti! Oggi apriremo questa bellissima valigetta a zainetto di Bing che si chiama Chef Bing perché qui dentro troveremo tutto quello che serve per cucinare proprio come un vero chef si sono ben 25 pezzi fra pentole, mestoli verdurine e accessori vari e qui sul retro possiamo vederli tutti eccoli qui e ci sono anche i fornelli per cucinare e la cosa più bella è che in questo comodo zainetto potete portarli sempre con voi e cucinare dove più vi piace hai visto? ma prima di aprirlo cosa dobbiamo ricordare Alice? di cliccare al canale di essere dando i like è di cliccare sulla campanella per non perdere nessuno dei nostri video ma adesso apriamolo si pronta? si si è una cosi più lontina tacchiamo la carta volta guarda qui carta e guardate che carino sembra proprio uno zainetto e c'è anche una maniglia e qui c'è il posto per mettere delle cinghie se volete portarlo con uno zainetto e da qui si apre pronta Alice? si oh è dentro oh guarda ci sono proprio le cinghie e così possiamo andare a sommare uno zainetto vero e proprio qui ci sono i fornelli e qui ci sono tutti gli accessori della cucina di Binga che adesso monteremo qui c'è anche il foglio con gli adesivi per decorare lo zainetto ecco i qui e qui ci sono i fornelli ecco i qui guarda i fornelli dove si appoggiano le pentole per cucinare i fornelli il portapiatti e il lavandino finta che carino gli adesivi che vanno qui dietro questo vuole io basta schiaccia anche tu la carne qui ci sono davanti in un'altra ok ecco fatto mi sto sotto è stata delicata un adesivo qui e poi uno grande lì dietro e qui lì c'è il forno e anche frulli guarda frulli si dice anche frulli ecco qui è l'appendino dove si mettono tutti i mestoli si li metti tu abbiamo un bellissimo cucchiaio grazie un bellissimo mestolo per gli spaghetti e una bellissima forchettona ecco qua poi abbiamo i piatti li mettiamo qui una bellissima padella con il suo coperchio mettilo sui fornelli così cuciniamo qualcosa una bellissima pentola e i coperchi questo lo metto io ok poi abbiamo anche le pinze per cucinare il sale e qui ci va l'adesivo 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 mi metterò qui un'altra bellissima palettina si un coltello si e tante verdure abbiamo un broccolo si una carota una pannocchia una pannocchia una pannocchia una pannocchia una pannocchia una pannocchia e un peperone verde un peperone verde ok che mi cucini? oggi ti cucina degli spaghetti con le verdure io intanto metto i fornelli ok degli spaghetti con le verdure mmm buonissimi ora li mettiamo dentro e dentro oh perfetto è acceso? accendi il gas da qua si perfetto e nella padella? nella padella mettiamo questi qua un broccolo perfetto mi piacciono i broccoli anche nella carota perfetto oh oh mi sono accortati i peperoni anche i peperoni ma anche il melanzane tutto insieme a cuocere ecco qua ecco fatto è acceso è acceso? si perfetto melanzana pronta oh è pronto grazie io ho il mio piatto una melanzana per me e un peperone per te grazie mille grazie mille e ci vorrei un po' di ketchup il mio ecco qua il ketchup grazie e anche un po' di sale per favore sì sale dov'è? qui ci 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 oh perfetto adesso è perfetto è buonissimo grazie Alice prego mmm io ho mangiato tutto metti i peperoni sporchi nel lavandino pulito oh perfetto era tutto buonissimo Alice grazie per il pranzo prego ci vediamo domani sì ok ciao ciao oggi ci sarà un cliente un cliente ma posso fare un caffè adesso? certo ma lo prepari tu? sì certo perché non lo vuoi col ketchup? no il caffè col ketchup non mi piace no non mi piace perfetto accendi il gas già quando? è pronto il caffè Alice è pronto? sì è pronto ah chiaro che brucia ecco qui la mia tazzina io amaro grazie oh grazie mille io amaro pure mmm davvero buono ma sei proprio uno chef sì sì mmm questa cucina è bellissima e poi quando si finisce di giocare si può richiudere tutto guarda si può mettere tutto nell'alzainetto valigetta così si può richiudere e portare tutto dove vuoi e fuori l'alzainetto si decora con gli adesivi li mettiamo? si posso farlo a mio posto mamma c'è qui attacca ecco qua hai visto che bello? sì adesso che gli adesivi è ancora più bello e qui dietro si montano le cinghie così diventa ovvero il proprio zainetto che potete portare sempre con voi sì per andare a cucinare e fare un bel picnic sì ok e con il bellissimo Chef Bing con tutto l'occorrente per cucinare e diventare un piccolo chef e Alice e ci vediamo alla prossima ciao ciao